Ebbene sì, questa carica pocce sarà la stagione dei rimpianti, la stagione dei rimpianti adesso vi spiego perché per iniziare mi scuso con tutti, aspettavate ieri il video pagelle, purtroppo essendo dei video che a me piace fare bene piace fare con in qualche modo la grafica, i voti eccetera, in questo periodo sapete tutti il problema che sto attraversando e ne avevo parlato in uno dei precedenti video, per questo non riesco proprio in questo frangente a mantenere sempre gli impegni ancora scusa, ovviamente torneranno i video pagelle animate appena avrò quel leggerissimo tempo in più che mi serve prima di iniziare però mi raccomando non fatemi mancare il vostro supporto soprattutto in questo periodo polliciozzo in su, like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e raggiungiamo le 2000 capocce nel minor tempo possibile allora perché sarà la stagione dei rimpianti ragazzi? sarà la stagione dei rimpianti perché ho sempre difeso questa rosa, ho sempre difeso il calcio per cato estivo ho sempre detto quanto fosse forte il Milan come squadra ho sempre detto che tutto questo divario dell'Inter non esiste, non esiste perché lasciando stare l'over performance dell'Inter quest'anno il Milan ha avuto un problema e lo sappiamo tutti, un problema che avevo denunciato ma non da quest'anno perché quest'anno denunciato il problema è facile ma dall'arrivo di Pioli ho sempre portato in qualche modo prima con i miei amici da quando ho aperto il canale anche pubblicamente il grave problema staff atletico il grave problema infortuni che affligge il Milan dal giorno 1 di Pioli nonostante questo problema il Milan sta macinando punti su punti su punti in classifica ecco perché la stagione dei rimpianti la stagione dei rimpianti perché quando ho difeso a spada tratta il calcio per cato estivo quando le cose andavano male in un periodo dove non riuscivamo neanche a far giocare due titolari su 11 le persone scrivevano l'avevo detto come fai a difendere il calcio per cato del Milan l'avevo detto mancano gli italiani come se la mancanza di italiani possa generare tra virgolette un calcio per cato estivo negativo quando poi se andiamo a vedere tutte le squadre che hanno vinto la Champions i passati anni poi voglio contare quanti autottoni di quella squadra c'erano in rosa detto questo lasciando stare le scemenze ad altri ho sempre difeso il Milan l'ho sempre difeso vi ho portato subito presentando il colpo Love to Seek come un colpo sensazionale come un giocatore che con quel misto di fisica e tecnica poteva spaccare la Serie A poteva fare un numero importante lo sta facendo vi ho portato Pulisic quando gli interisti parlavano degli acquisti dal Chelsea come giocatori neanche buoni per portare la spesa vi ho detto quanto fossero forti Pulisic e Love to Seek quanto fosse determinante quanto avessero intelligenza calcistica superiore alla media Pulisic e sono qui ancora a difendere l'acquisto Ciuquezi a dire ragazzi bisogna avere pazienza non tutti sono Pulisic non tutti hanno l'impatto dal giorno 1 come possono avere Pulisic e Love to Seek vi ho detto che Ciuquezi è arrivato senza preparazione in una stagione senza gioco perché il Milan purtroppo per larghi tratti quest'anno non ha avuto gioco adesso ci stiamo riprendendo adesso stiamo giocando come le prime 4-5 partite di inizio anno e quindi i risultati anche a livello di numeri si stanno crescendo e non è un caso che Ciuquezi esplode proprio in questa fase dove tutto inizia a girare bene l'avete visto all'Inter stagione da bullino bianco come ogni calciatore che entra fa bene lo stesso Bissex su cui gli interisti nutrivano dei seri dubbi sta rendendo sta rendendo Renato Gusto stanno rendendo tutti perché quando la stagione è in over performance quando gira tutto bene anche i singoli acquisti hanno un notevole aiuto nell'inserirsi nel contesto tecnico-tattico di una squadra vedrete come Ciuquezi sarà il primo nuovo acquisto l'anno prossimo si dimostrerà il calciatore importante si dimostrerà e dimostrerà di valere i soldi spesi per lui quindi da questo punto di vista ok purtroppo sarà la stagione dei rimpianti perché bastava avere un po' meno di arroganza un po' meno di supponenza da parte di Pioli cosa che ho più volte rimproverata al mister e quando io rimprovero queste cose al mister tutti i piollersi vengono qua a lamentarsi ragazzi a me costa criticare Pioli costa perché è un allenatore a cui vogliono un sacco di bene perché ci ha portato ad un livello superiore ci ha portato a stare stabilmente in Champions League ci ha portato lo scudetto con un bel gioco e purtroppo quando dopo lo scudetto ho proprio cambiato nelle risposte nella personalità si è dimostrato arrogante e supponente quando dal giorno 1, ripeto, denunciavo ma anche perché lavoro all'interno del settore un problema a livello della preparazione atletica e ho anche detto qual è stato il problema il problema è stato che il Milan ha fatto una preparazione atletica tra virgolette sbagliata sovraccaricata c'è stato qualche sovraccarico di troppo lo staff atletico si è spaventato e ha totalmente annullato i lavori di forza quando sappiamo tutti, o meglio chi è nel settore lo sa che la forza è la base della prevenzione e non puoi completamente abbandonarla per larghi tratti il Milan si è dimenticato dei lavori di forza a settembre, ottobre, novembre, dicembre avendo una moria di infortuni e non a caso i calciatori si infortunavano in partite non in allenamento perché in allenamento lo staff avendoli sovraccaricati durante la preparazione estiva li faceva andare sotto ritmo appena iniziava la partita dove si andava a ritmi enormemente più elevati dell'allenamento sotto ritmo i calciatori non erano abituati a tenerli e si rompevano cadendo tutti come mosche c'è stato quel grave problema la società ha cercato di porre rimedi a gennaio-febbraio cambiando, reintroducendo i lavori di forza adesso si sta effettivamente vedendo che gli infortuni del Milan sono normali adesso sì che sono normali quando ci sono purtroppo il Milan ha avuto una situazione ragazzi infortuni che non è una situazione sopra la norma una situazione che non è mai esistita nella storia del calcio nonostante tutto abbiamo fatto punti abbiamo continuato a fare punti purtroppo complice anche la stagione meravigliosa in campionato dell'Inter e ripeto in campionato perché poi in Champions League hanno fatto magre figure quel mese dannifico un po' come è stato l'anno del nostro scudetto quando loro fecero due punti in sette partite ci ha stroncato le gambe l'Inter ha continuato a viaggiare a ritmi elevatissimi in questo giro di ritorno stiamo viaggiando praticamente agli stessi ritmi dell'Inter però non basterà non è bastato non potrà bastare è perché purtroppo l'Inter sta avendo una stagione incredibile ma noi ci accorgeremo della bontà fatta l'anno scorso nel mercato ci accorgeremo di quanto il Milan sia forte di come i giocatori appena ritornerà al gioco appena ritornerà un filone appena ritornerà la squadra a conoscersi dopo aver cambiato tanto noi vedremo i Renders a fermarsi come tra i migliori centrocampisti in circolazione l'Off2C che ritornerà continuerà a spaccare tutto come sta facendo quest'anno Ciukweze ripeto ritornerà il calciatore ammirato al Villareale eccetera eccetera allora tutti diranno effettivamente il Milan ha fatto un grandissimo mercato ragazzi io sono convinto della bontà del progetto Milan assolutamente il Milan è fuori dal campo sta creando un solco che presto si dimostrerà tale anche all'interno del rettangolo verde quando finiranno i favori quando magari finirà Marotta di tessere le sorti di una squadra l'Inter al momento tutelata tutelata dal sistema ma non mi riferisco a favori arbitrali mi riferisco mancate indagini su qualcosa che sta realmente accadendo all'Inter un presidente inseguito da creditori da tutti non può tornare in Italia non siete più da nove mesi ragazzi all'inizio anno dovevano dare fiducia che non hanno avuto per iscriversi alla Serie A quindi sta accadendo di tutto e accadrà presto all'Inter quando Marotta lascerà la squadra perché Marotta sappiamo essere l'ultimo padrino del calcio italiano in tutti i sensi purtroppo il Milan è una squadra che da quando non ha più una proprietà italiana è una squadra che non fa figli e figliastri è una squadra che non invita certi giornalisti alle riunioni è una squadra che non è tutelata dagli organi di stampa si vede come la Gazzetta spara con facilità a zero sul Milan si vede come gli arbitri quando devono uscire i cartellini gialli contro il Milan sono sempre ben felici di farlo emblema il cartellino giallo uscito contro Teo Hernandez squalificandolo facendo risaltare la difficile trasferta di Firenze quando Teo è del giorno 1 che esulta in questa maniera purtroppo sarà la stagione dei rimpianti ma su questa stagione dei rimpianti dobbiamo costruire le fortune degli anni a venire e ripeto per l'ennesima volta confermare o non confermare Pioli solo sulla base di un'isperata vittoria dell'Europa League che per me sarebbe in tutti i modi sbagliato sarebbe sbagliato perché confermare Pioli se vuoi confermare Pioli devi per forza rinnovare il contratto e Pioli purtroppo si è portato avanti negli ultimi due anni una perdita di pazienza da parte della tifosina russonera un ambiente ostile e quindi per me confermare Pioli anche dovesse vincere l'Europa League si rivelerebbe una mossa sbagliata perché l'anno prossimo alla prima sconfitta le prime 3-4 partite giocate male ci saranno di nuovo i mugugni serve resettare tutto serve riportare un allenatore al Milan che possa dare nuovi stimoli che possa far crescere determinati calciatori e farli raggiungere l'apice che ancora i nostri top non hanno raggiunto perché Leao non ha raggiunto l'apice Teo può fare molto di più Magnan può fare molto di più e anche qui per questo serve un cambio di vedute un cambio di stimoli un cambio di ideali tecnico-tattici e quindi serve cambiare allenatore e al di là del cambio allenatorio dedicherò un video dovesse lasciare a fine anno Stefano Pioli perché lo merita perché ragazzi al di là di tutto al di là degli errori che ho fatto e che sono stato sempre qui davanti voi a sottolineare gli errori per quanto riguarda la gestione dei cambi la gestione dei nuovi acquisti la gestione del mercato la gestione della rosa a livello dello staff atletico essendo stato nominato purtroppo in estate capo supremo dello staff dell'area tecnica del Milan ragazzi al di là di tutto Pioli comunque sia ci ha portato ad un livello superiore considerando che prima di lui facevamo la lotta sia arrivare quinto ottavi e da questo punto di vista andrà detto grazie Stefano Pioli e proprio per questo spero quest'anno di chiudere benissimo la stagione per poterlo abbracciare una volta di più augurargli tutte le fortune del mondo e continuare questa salita che presto sono convinto ci vedrà a vincere 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 detto questo vi ringrazio per essere stati qui con me pollice ottenzione che è il video iscrivete al canale questa sarà la stagione dei rimpianti non tutto è perduto cerchiamo di rendere questa stagione una base solida per continuare a crescere e soprattutto ritornare a vincere vi ringrazio per essere stati qui con me ci vediamo domani con un nuovo video bella raga sempre e solo forza mina dai adesso testa 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 a giovedì dai a giovedì